Buongiorno, sono Jacopo Berti, io sono castellano da sempre, da 30 anni. Sono un po' abbastanza innamorato del Mulino Scodellino perché è una piccola perla che nessuno conosce. Quindi approfitto per evadere un pelo sia dal lavoro che dal centro del paese. Mi ricordo come era una volta che era un luogo che cadeva a pezzi e tramite l'associazione degli Amici del Mulino è stato tanto fatto, ma ancora tanto c'è da fare. Quindi l'invito che faccio a tutti i castellani non, perché anche tanti castellani non sanno la bellezza di questo posto, è quello di venire a fare un giro, conoscere gli Amici del Mulino e fare un giro in questo bellissimo posto. Grazie a tutti.